Lo sviluppo di nuove soluzioni per costruire è il filo conduttore della storia laterlite e la storia oggi continua. Le Cacem Mini e Paris 2.0 sono la soluzione ideale per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Le Cacem Mini a base di argilla espansa Leca più è il sottofondo isolante a elevata resistenza e chiusura superficiale che assicura grande stabilità ai pannelli radianti. È semplice e pratico da impastare perché è premiscelato in sacco. Richiede solo l'aggiunta di acqua. La posa è veloce e facile. Leca Cacem Mini non necessita di compattazione. Il basso coefficiente di conducibilità termica certificato migliora l'isolamento del divisorio orizzontale evitando dispersioni di calore verso il basso. Leca Cacem Mini assicura carichi permanenti ridotti alleggerendo le strutture. È un prodotto eco-bio compatibile certificato ANABICEA per la biodilizia. Dopo la posa del sistema radiante formato dalle piastre di base e dalle tubazioni si procede con la formazione del massetto di finitura PARIS 2.0 che grazie alle specifiche caratteristiche tecniche ottimizza le prestazioni dell'intero sistema. L'elevato coefficiente di conducibilità termica certificato consente anche grazie alle fibre metalliche inossidabili e alla posa in soli 3 cm di spessore un'ottimale e omogenea trasmissione del calore negli ambienti. I tempi di messa a regime del sistema risultano più contenuti grazie alla ridotta inerzia termica, importante per raggiungere celermente la temperatura di comfort. La gestione dell'impianto avviene a una temperatura dell'acqua più bassa che si traduce in un effettivo risparmio energetico con consumi ridotti. È antiritiro e permette la realizzazione di superfici fino a 150 m2 senza giunti e reti di rinforzo a tutto vantaggio di una maggiore qualità e sicurezza della pavimentazione. Il basso spessore di applicazione, solo 3 cm sopra tubo, consente di contenere l'ingombro dell'intero pacchetto radiante, ideale anche negli interventi di ristrutturazione. Resistente e a veloce asciugatura, è adatta alla posa diretta di qualsiasi pavimentazione anche sensibile all'umidità. Paris 2.0, il massetto radiante più conduttivo per il migliore confort termico, e Leca Cemmini, il sottofondo più isolante e planare per la massima stabilità dei pannelli, sono l'ideale completamento al tuo sistema per il riscaldamento a pavimento. Affidati alla qualità dei prodotti laterlite. Scopri il mondo l'Eca anche su leca.it